Sono Giuliano Pozza, CIO di Fondazione Don Carlo Gnocchi. Abbiamo iniziato due anni fa un progetto di trasformazione di IT per digitizzare i processi principali della Fondazione Don Gnocchi. L'innovazione in l'esercizio è andata velocemente velocemente perché abbiamo molti nuovi tecnologie, abbiamo nuovi dispositivi medici, sistemi robotici, nuovi sistemi informazioni. L'innovazione in l'esercizio è uno dei rischi maggiori da un'altra parte perché alcune di queste tecnologie sono anche pericolose perché possono mettere in pericolazione la vita dei pazienti. Abbiamo molti buoni servizi principali, molti buoni specialisti di IT. in realtà non abbiamo i leader che abbiamo bisogno. Questa è la mia opinione. T-Copino. T-Copino.